ciao a tutti buona domenica come ho annunciato qualche minuto fa in questa domenica in cui non riesco a staccare la spina dalla politica mi sono imbattuta in una dichiarazione dell'ampi di termini imerese quindi ho cominciato a studiare per capire quale fosse il livello di rappresentanza e rappresentatività dell'ampi di termini merese che con tanta vehemenza è intervenuta per stoppare l'intitolazione di una strada a giorgio almirante allora ho cercato questo che vedete ve lo faccio vedere è un libro storia della sicilia questo è addirittura il terzo tomo di un importante libro di storia contemporanea ma non ho trovato nulla sull'ampi di termini merese non ho trovato nulla su questa prestigiosa sezione di termini merese dell'associazione nazionale partigiani allora ho cercato un po su internet e mi sono accorta che negli ultimi anni la loro vocazione il loro impegno è stato quello di intervenire sui toponimi delle vie delle piazze delle strade di termini merese oggi è toccato a giorgio almirante era già toccato ad alfredo cucco ma concentriamoci su giorgio almirante cosa dice lampi lampi di termini merese dice giorgio almirante non merita una strada a termini merese perché è un personaggio divisivo per la sua per la storia e per quello che rappresenta allora io credo che sia opportuno che si faccia qualche considerazione al di là del al di là del pregiudizio perché vedete l'intitolazione di una strada di uno spazio pubblico come nasce a termini merese nasce con una richiesta del partito di fratelli d'italia del quale anche io faccio parte che a termini merese a esprime dei validissimi componenti anche all'interno dell'amministrazione che io ringrazio per quello che fanno giorno dopo giorno sono giuseppe di blasi l'icia fullone i tanti militanti e dirigenti che nel corso degli anni si sono avvicinati a fratelli d'italia termini merese ebbene fratelli d'italia a termini merese nel mese di maggio fa una richiesta che viene esitata con parere favorevole dal dal sindaco dalla commissione toponomassica in ultimo si trasforma in una delibera di giunta quindi un atto assolutamente legittimo nel suo nella sua formazione nella sua nella sua valenza e conseguentemente nella sua validità questo è l'atto di un'amministrazione che legittimamente desidera intitolare una strada a giorgio almirante attenzione non è una novità ci sono decine 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 di vie strade piazze già intitolate a giorgio almirante in tutta italia quindi a termini merese non hanno avuto una idea originale semplicemente hanno ritenuto che fosse il momento anche a termini merese che ha una solida tradizione di destra di intitolare una strada a giorgio almirante chi era giorgio almirante giorgio almirante è stato per decenni il segretario del movimento sociale italiano giorgio almirante è stato colui che ha avuto il grande merito con l'arte del dialogo che sapientemente ha esercitato di tenere milioni di elettori milioni di simpatizzanti nell'alveo della democrazia per impedire che prendessero la strada della politica extraparlamentare negli anni di piombo negli anni in cui per politica si uccideva ecco giorgio almirante in quegli anni girava le sezioni del fronte della gioventù del movimento sociale per spiegare che era giusto rimanere nell'alveo della democrazia che era giusto guadagnarsi gli spazi politici vincendo le elezioni e giorgio almirante fu uno che ha vinto le elezioni e per tanti anni per decenni ha fatto parte del parlamento quindi colui che è stato parlamentare della repubblica secondo lampi di termini merese non merita di avere una strada intitolata a termini e allora io voglio dire una cosa a questi signori del lampi di termini merese che devo dire per essere dei partigiani vicini all'età centenaria portano bene la loro la loro età io a questi signori voglio dire che forse sono loro che cercano di dividere forse sono loro che cercano di fare ripiombare l'italia in una guerra civile in uno scontro politico perché vedete già tantissimi anni fa giorgio almirante era talmente stimato talmente ben voluto anche dai suoi avversari di sinistra che quando morì enrico berling quello ritenne di rendere omaggio al suo al suo avversario nella camera ardente questo gesto di nobiltà politica che forse oggi qualcuno ignora fu ricambiato quando poi almirante romualdi due grandi leader del movimento sociale morirono a pochi giorni di distanza paietta il nil dei otti due comunisti autentici due comunisti veri andarono a rendere omaggio a giorgio almirante riconoscendo la grandezza del politico la grandezza dell'uomo è storia che giorgio almirante riempiva le piazze stato il migliore oratore le sue tribune politiche ancora oggi sono un esempio di capacità di tenere il dibattito capacità di comunicare con con gli elettori giorgio almirante è stato tutto questo giorgio almirante è stato un amante del dialogo un politico dalle indiscusse e superiori probabilmente qualità qualità intellettuali che ha avuto due grandi meriti quello di tenere la destra e milioni di elettori di destra nell'alveo della democrazia è quello di mantenere un partito il movimento sociale italiano al quale certamente in gran parte fratelli italia si ispira nell'alveo della legalità di lui diceva indro montanelli è l'unico politico al quale puoi stringere la mano senza paura di sporcartela ecco questo era giorgio almirante un uomo al di sopra al di sopra di ogni sospetto un uomo che ebbe il grandissimo il grandissimo merito di fare grande la destra di sdoganare la destra e vedete amici si fa per dire dell'ampi la destra giorgio almirante non la dovete sdoganare voi l'hanno sdoganata nella storia migliaia di italiani che hanno espresso il loro voto la loro preferenza mettendo una x sulla fiamma tricolore quello è lo sdoganamento non siete voi che dovete sdoganare la destra e fatevene una ragione la destra è esistita in passato esiste oggi ed esisterà sempre e allora io trovo francamente fuori luogo irrispettoso questo voler tirare per la giacchetta ora il sindaco ora il presidente del consiglio comunale ora addirittura il prefetto il prefetto non fa politica il prefetto è un funzionario statale il prefetto può limitarsi a valutare la conformità alle disposizioni di legge di un atto e certamente questa delibera non è contra legge ma quindi non potrà che ricevere nulla osta che anche io chiederò con una lettera che in questo in questi minuti sto sto scrivendo e che partirà stasera stesso all'indirizzo del del prefetto di palermo ecco questo è giorgio almirante questo era giorgio almirante un uomo che è stato in grado di ergersi al di sopra di conflitti terribili come quelli che l'italia ha vissuto negli anni di piombo e allora smettetela con queste strumentalizzazioni nel 2018 qualcuno qualcuno mi scrive cosa rappresenta lampi nel 2018 non lo so ma certamente so cosa continua a rappresentare giorgio almirante nel 2018 e merita di avere intitolato uno spazio pubblico a termini merese quindi smettetela di tirare per la giacchetta chi decide di riconoscere il valore indiscusso dell'uomo e del politico smettetela fratelli d'italia si farà promotore di un incontro pubblico per spiegare a tutti a termini merese chi era giorgio almirante non so se lampi parteciperà perché non credo che amino particolarmente il dibattito cercano più che altro la via dell'indottrinamento la via dello scontro no noi non temiamo il confronto perché noi siamo forti della nostra identità e sono sicura che come già stabilito con quella delibera nella piena legittimità dall'amministrazione comunale di termini merese anche il prefetto darà corso a questa questa volontà e presto noi avremo via giorgio almirante a termini merese e in ultimo voglio dire a ai signori dell'ampi che minacciano addirittura di andar via da termini merese se dovesse essere intitolata la strada a giorgio almirante esistono già strade intitolate a persone che hanno fatto parte del partito fascista c'è la scuola pirandello addirittura a termini merese quindi state attenti quando fate certe promesse che non vorrei un domani vedervi costretti davvero davvero a fare le valigie perché noi siamo per la convivenza civile noi non siamo come voi allora io spero che presto ci sia via giorgio almirante spero che voi condividiate il mio appello per fare sentire al sindaco al presidente del consiglio comunale al prefetto ai dirigenti di fratelli d'italia che non siamo soli giorgio almirante un patrimonio di tutti adesso leggo tanti commenti vedo che condividete condividete in molti e questo non può che farmi non può che farmi piacere quindi vi ringrazio e sentivo di dover condividere con voi queste queste considerazioni adesso spero che presto si arrivi alla definizione dell'iter burocratico perché tutti insieme possiamo ritrovarci a termini merese per festeggiare l'inaugurazione di questo spazio pubblico intitolato a un grande uomo a un grande italiano che era giorgio almirante grazie e buona domenica grazie 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 grazie